Buonasera Gloria Ferrero e grazie per questa intervista che fa un po' da preludio al tuo prossimo seminario su un tema interessante che è quello del duogramma. Che cos'è il duogramma? Perché è utile conoscerlo, saperlo usare? Il duogramma è uno strumento che abbiamo pensato per la formazione dei terapeuti, io e la dottoressa Teresa Arcelloni qualche anno fa, è la rappresentazione grafica, la narrazione delle storie, delle relazioni di coppia significative della persona. E quindi uno strumento che permette, aiuta la persona allievo in formazione, allievo fa la formazione alla psicoterapia a raccontare, a riflettere, a guardare da punti di vista diversi la propria storia, la storia delle proprie relazioni sentimentali. E quindi prende in considerazione un'unica generazione, che è quella appunto del soggetto che racconta, nell'idea di aiutare il futuro terapeuta, così come si fa con l'utilizzo del duogramma, per costruire la propria idea, le proprie idee e i propri pregiudizi rispetto all'essere coppia, allo stare in coppia. Siamo partiti dall'idea che, come dire, anche le nostre relazioni di coppia entrano nel nostro modo di essere terapeuti, di fare terapia, così come tutte le altre caratteristiche della nostra vita, i genitori che abbiamo avuto, i nonni, eccetera. E anche le relazioni di coppia influenzano ovviamente ciò che noi portiamo nella terapia. E quindi una riflessione, ritenevamo un po' mancasse nella formazione qualche anno fa alla terapia sistemica, una riflessione sulle proprie vicende sentimentali aiuta, nello stesso modo del genogramma, al terapeuta a riflettere, a diventare maggiormente consapevole dei pregiudizi e delle premesse, che poi porta in terapia coi propri clienti e quindi a renderlo più disponibile, più neutrale, come diciamo noi, a ciò che gli altri portano rispetto ai temi appunto della relazione di coppia, della sessualità, dello stare insieme, di come si sta insieme, perché, eccetera. C'è chi mi ricordo diceva che generalmente il terapeuta ha due o tre pregiudizi che sono i pregiudizi dei suoi genitori, ecco, però voi ne aggiungete un altro, cioè che è quello che il terapeuta si forma nelle sue relazioni di coppia, fin da quando, come dire, si è innamorato la prima volta e vi è andato. Noi chiediamo la consegna del duogramma, dice proprio questo, invita la persona a raccontare anche quelle relazioni solo desiderate o che non si sono mai realizzate perché non c'è stata una corrispondenza di affetti o che sono rimaste solo desiderate, no, perché anche attraverso queste, no, anche quando siamo piccoli, no, il primo innamoramento, no, quel compagno della scuola o dell'asilo, no, che ci ricordiamo spesso, no, averci mosso delle emozioni forti, comunque entra, no, a costruire ciò che noi pensiamo, no, dell'amore e delle relazioni. Ovviamente, come dire, no, tutte le esperienze, no, segnano le persone nello stesso modo, un innamoramento, una relazione d'adulto ovviamente entra in gioco in modo diverso, no, però, come dire, in un'ottica relazionale questi aspetti, qualunque relazione, sta sullo stesso piano, no, e quindi a noi interessa attraverso il duogramma la lettura che la persona fa di quella relazione, quindi la lettura che nel presente fa del passato e quindi come quell'esperienza, come dire, entra oggi a influenzare, in particolare nella terapia, hanno il proprio modo di osservare anche gli altri nelle loro relazioni. Ecco, per cui, oltre che prospettarsi un seminario interessante, è anche divertente, ma volevo aggiungere un'altra cosa, che fin dalla comparsa nel 2008 del vostro articolo, questo tema ha avuto, diciamo, nel movimento sistemico, ha riscosso interesse? Sì, ha riscosso interesse soprattutto negli ultimi anni, forse addirittura di più che inizialmente, forse anche perché il mondo cambia, la terapia evolve, la domanda anche di terapia di coppia è molto aumentata e quindi forse anche l'interesse per questo strumento è aumentato, uscirà tra l'altro a breve un articolo sul programma in una pubblicazione in Brasile, in un testo proprio sulla formazione del sede del terapeuta, però anche negli anni abbiamo visto, insomma, aumentare le citazioni, i commenti su articoli e riviste anche del settore perché appunto questo è evidentemente, insomma, un tema che oggi si sente importante, no? E quindi, insomma, ci fa piacere che abbia una buona risonanza, anche se alcune volte non condividiamo sempre l'utilizzo che ne viene fatto, la lettura che ne è stata data in altri modelli, insomma, in altre scuole di pensiero, però, insomma, ci fa piacere sicuramente che sia uno strumento che viene utilizzato nella formazione, anche in altre scuole, in altri modelli. Insomma, mi avrebbe da dire piatto ricco, micifico, ci vediamo il 15, grazie dottoressa Ferrero e... Grazie a voi. Già che stiamo in vista di Pasqua, buona Pasqua. Altrettanto, auguri a tutti. Ciao.